Grazie Presidente. Noi non ritiriamo questo emendamento perché io mi appello a coloro i quali oggi sono parlamentari ma sono stati amministratori locali sui propri territori e magari hanno amministrato bene e con responsabilità. Noi nell'arco di 15 giorni ci siamo trovati con il taglio ai premi dei comuni virtuosi nell'ultima cosiddetta manovrina. Oggi ci troviamo in una situazione dove pare che in legge di stabilità siano ancora una volta premiati e sostenuti quegli amministratori e quei comuni che sono stati irresponsabili dal punto di vista amministrativo. Noi abbiamo assolutamente bisogno di dare un segnale dal punto di vista della responsabilità istituzionale e di differenziare finalmente quei comuni e quegli amministratori locali che si comportano a modo e con responsabilità rispetto ai soldi pubblici e ai soldi dei loro cittadini e di dare un segnale invece a quei comuni e quegli amministratori locali che si sono comportati sin qui irresponsabilmente. Se continuiamo come è stato fino ad oggi continueremo ad avere amministratori responsabili che tutte le volte saranno aiutati e sostenuti dall'aiuto pubblico dello Stato centrale. Questa cosa va a discapito degli amministratori responsabili e dei tanti sindaci e amministratori locali che ci sono su tutto il territorio nazionale. Grazie.